Primo passo verso la costituzione del tavolo permanente per l'occupazione. Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto il documento che sarà sottoposto ad enti, istituzioni e sindacati. Il documento si propone di sburocratizzare le procedure regionali e non solo, liberare le risorse per gli investimenti e favorire l'accesso privilegiato al credito. Un primo passo secondo l'assessore al lavoro del comune metelliano Antonio Armenante, promotore dell'iniziativa. L'obiettivo è trovare delle soluzioni concrete per lo sviluppo dell'occupazione sul territorio, occupazione che spesso manca e costringe i giovani a lasciare la città.